Sanzione amministrativa pari a 1000 euro e la chiusura dell'attività per 15 giorni per un tabaccaio sorpreso nella vendita di un pacchetto di sigarette ad un minore. L'esercente alla vista dei poliziotti avrebbe ritirato il pacchetto e restituito i soldi. Continua nei controlli della divisione polizia amministrativa della questura di Caltanissetta a Niscemi, con l'ausilio dei poliziotti del commissariato di Polizia di Stato, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle regole in merito alla vendita di sigarette a minorenni da parte dei rivenditori di tabacchi. Secondo la legge, infatti, chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento d'identità, tranne nei casi in cui la maggiorità dell'acquirente sia manifesta. Sempre a Niscemi è stato sanzionato nelle settimane passate anche un barista per aver venduto ad un minore una bottiglia di birra.